Prova da lontano, rifinza il primo tiro, il pallone è uscito, si ripartirà con una rimessa dal fondo. Atenzione direto, na trave, olha só, tá viva. Il pallone è in giro, il pallone è in giro. Puede essere buona, al pallone, però ojo, che non termina il peligro. Non mi extraña, entrò con molta fuerza. Al travesaio, però ojo, che non ha salito. Il pallone è in giro. E' un po' d'autorevoi, sa giù. Bien sûr, quando tu es già averti, il faut eviter ce genre de geste. Tentative renvoyée par la barre, ce n'est pas fini. Oui, il centro, il est bon, dans la surface. Un pallone sur la transversale, attention. E' un po' d'autorevoi, è un po' d'autorevoi, è un po' d'autorevoi. No travessão, tá limpo ainda. Tensão, dá pra bater direto. No travessão, tá limpo ainda. E c'è la traversa. Pallo, calcio di posizione, zolla pericolosa. Tentative renvoyée par la barre, ce n'est pas fini. He'll take this on. And the keeper stretching to deny him. And putting paid to the danger. Mohamed Salah. Oh, he'll take it's on. Oh, the ball's denied him. Es casi gol, diría. Esto puede ser. Pego en el palo. Y si desde ahí lo clava, pregunto nada más. Y si lo clava desde ahí. Esto dio en el palo y sigue la jugada. Fue buena la del artiro. Fue buena la del artiro. Fue buena la del artiro.